ciao e benvenuti in un nuovo video fova channel oggi vi parleremo della lumix g9 una fotocamera uscita sul mercato ormai 8 mesi fa ma ci sono ancora secondo noi tre caratteristiche fondamentali che lo rendono un acquisto estremamente intelligente la lumix g9 è una macchina pensata prevalentemente per i fotografi l'ergonomia è studiata per mantenere tutte le comodità di una reflex ma in realtà in mano stiamo tenendo una mirrorless la disposizione delle ghiere per la regolazione manuale rende questa macchina ottima per l'utilizzo professionale abbiamo trovato molto comodo anche il joystick posto al lato del display questo joystick ci permette di scegliere rapidamente uno dei 225 punti di messa a fuoco la macchina ha un peso decisamente ridotto con batteria e scheda arriviamo a 658 grammi un'altra caratteristica particolarmente interessante è la velocità di messa a fuoco 0,04 secondi oltre a questo la rapidità dello scatto raffica fino a 20 fotogrammi al secondo in modalità a f continuo e fino a 60 fotogrammi al secondo in a f singolo in entrambi i casi alla massima risoluzione e in formato raw e per chi non ritiene sufficienti 20 megapixel del sensore micro 4 terzi della g9 c'è la funzione high resolution questa funzione permette l'unione di otto immagini realizzate in completa autonomia dalla macchina ottenendo così una fotografia da 80 megapixel tra ogni scatto il sensore si sposta leggermente per poter acquisire più dati possibili questo permetterà di ottenere una fotografia quattro volte più ricca di informazioni rispetto a un'immagine singola anche in formato raw per utilizzare questa funzione dobbiamo ovviamente utilizzare il treppiede vi abbiamo parlato di caratteristiche prettamente fotografiche ma in realtà se tra una foto e l'altra volete fare anche qualche filmato questa camera è in grado di regalarvi grandi emozioni video 4k e cose decisamente volute chiaro che non abbiamo una gh 5 che ci può fare un 4 2 2 o un super slow motion ma le caratteristiche video sono comunque molto interessante quindi queste caratteristiche sommate alla stabilizzazione su cinque assi fanno sì che questa sia la fotocamera ideale per foto amatori evoluti che cercano grandi prestazioni o per fotografi professionisti quando avevamo girato questo video non avevamo ancora attivato due interessanti iniziative la prima è che se avete interesse di provare la lumix g9 o l'intera gamma di fotocamere lumix g al link in descrizione trovate i dettagli di un tour nazionale che abbiamo in pista la seconda invece si tratta di uno sconto promozionale in cassa dal valore di 400 euro ma ricordatevi che l'offerta è limitata nel tempo se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video